Fantasma, Vampirino e Mano si annoiavano. A Fantasma venne un'idea. Perché non entriamo nel bosco proibito? Mano rispose, è pericoloso, non si torna da lì. Fantasma rise, ma Vampirino accettò la sfida. Ok, andiamo! In un amen erano all'entrata del bosco proibito. Esitarono, ma alla fine Vampirino varcò la soglia. E con lui gli altri due. Appena dentro si trovarono circondati dalla nebbia. Un grosso occhio li fissava. Che ci fate qui? I tre amici presero paura. Ci siamo persi, inventò Vampirino. L'occhio disse. Camminate avanti cento passi, poi altri cinquanta passi e poi saltate. Quarantotto, quarantanove e cinquanta. Ora dobbiamo saltare, ma vedo solo altra nebbia. Torniamo indietro, disse Fantasma. Ma Vampirino prese coraggio e saltò. Fantasma e Mano saltarono insieme. Si ritrovarono magicamente all'ingresso del bosco proibito, ma davanti a loro c'era un cartello che diceva Non entrate, ci si perde. Si misero a ridere. La paura era passata.